L'italiano si guarda allo specchio a Firenze, la città di Dante, ospita per la terza volta gli stati generali della lingua italiana, organizzati dal Ministero degli Esteri insieme a quelli dell'istruzione e dei beni culturali e dedicati alla tutela dell'italiano fuori dai confini nazionali. Presenti per il governo il Premier Matteo Renzi e la Ministra dell'istruzione Stefania Giannini, neanche il tempo di aprire i lavori che Renzi ha dovuto rimediare a una frase del Vice Ministro degli Esteri Mario Giro che ha dichiarato Noi siamo la lingua del sì, basta con i no pessimisti e rassegnati. Il riferimento del Vice Ministro Giro a quel sì era una dotta citazione del 33esimo canto dell'inferno, non c'entra niente con l'attualità. Alla promozione dell'italiano sono stati destinati 50 milioni di euro inseriti in legge di stabilità. Per la prima volta noi abbiamo uno strumento, abbiamo delle risorse e abbiamo una meta che è quella di internazionalizzare il nostro paese. Ma la tutela dell'italiano non è tutta rose e fiori se il governo sta trattando con gli autonomisti altoatesini per togliere il 60% dei nomi in italiano dai segnali stradali in provincia di Bolzano, lasciando solo quelli in tedesco. Ma è una questione di interesse nazionale perché negare il diritto a qualunque altro italiano che risiede in ogni altra parte d'Italia di venire in una parte del territorio nazionale e non trovare più la lingua italiana per indicare luoghi e realtà, ebbene è un atto di violenza. Questo e le troppe concessioni del governo all'inglese nei testi di legge come nel caso del Jobs Act sono le ragioni della proposta di legge a tutela dell'italiano presentata dal deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano insieme al consigliere della provincia di Bolzano Alessandro Urzi e al leader di azione nazionale Gianni Alemanno sceso in piazza davanti al Palazzo Vecchio.